Continua la battaglia di Filippo Falcone contro l'evasione fiscale a Sommatino. Dopo la lettera inviata al vicepresidente della Commissione Nazionale Antimafia, l'onorevole Claudio Fava, adesso una missiva, giunge anche al presidente dell'Anci Sicilia, Orlando, attuale sindaco di Palermo. Orlando, ricordiamo, oltre a presenziare nel passato ad alcune presentazioni dei libri di annuncia dello stesso Falcone, riconoscendo il suo prestigio politico e culturale, lo aveva voluto candidato alle ultime politiche nella lista Rivoluzione Civile in Groia per la Camera dei Deputati, spendendo per l'ex consigliere provinciale di Sommatino parole di stima e apprezzamento durante la presentazione della lista a Caltanissetta. A Leoluca Orlando, Falcone chiede, portando avanti la sua battaglia di legalità, la sospensione del comune di Sommatino dall'Associazione dei Comuni Siciliani, preseduta proprio dal sindaco di Palermo. Falcone ritorna sull'evasione fiscale nel comune sommatinese, evidenziando di come di fronte alle tasse comunali, l'ultima quella sui rifiuti, mentre gli onesti cittadini andranno a pagare, da anni risulta ormai che l'amministrazione comunale, retta da Crespino San Filippo, non recuperi più i tributi evasi. Cosa altrettanto grave è che per fare la quadra, seppur formale, dei bilanci comunali, vengono annualmente poste delle voci di entrata in erenti tali recuperi di tasse evase, che però rimangono regolarmente lettera morta. Tutto ciò supportato da documenti ed atti è stato più volte a suo tempo reso noto anche alla Procura della Repubblica, Prefettura e Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta. Si tratterebbe, continua Falcone, di comportamenti omissivi da parte dell'amministrazione comunale degli uffici preposti, ufficio tributi per le imposte, ufficio tecnico per le sanatorie delizi abusive, rimasti impuniti nel tempo, con evasione per anni di imposte dovute non pagate, in dispregio ad ogni cittadino onesto. Ci si troverebbe di fronte dunque ad omissioni gravi, posti in essere da rappresentanti di una pubblica amministrazione, con il rischio di incorrere nei reati di omissioni in atti d'ufficio e danno erariale. Dalli comportamenti, qualora accertati, e lo si può fare facilmente, prevederebbero anche una possibile sospensione dei responsabili e dello stesso primo cittadino, se non più garante delle regole amministrative o contabili, così come secondo le stesse norme del codice penale. Falcone, nella sua lettera, si chiede come mai in un comune della Repubblica italiana i cittadini onesti debbano pagare le tasse e gli evasori vecchi e nuovi debbano invece continuare a farla franca, coperti da probabili atteggiamenti omissivi. Il paradosso della vicenda chiama in causa, seppur indirettamente anche l'Anci Sicilia, impegnata da tempo in prima linea sulla lotta all'evasione fiscale. Nei mesi scorsi risulta infatti che il comune di Sommatino è stato tra gli enti che hanno siglato l'adesione ad un protocollo di intesa tra Regione Siciliana, Anci Regionale e Agenzia delle Entrate, niente meno che per il contrasto all'evasione, salvo poi non perseguire gli evasori, nonostante specifiche e dettagliate denunce. Una farsa, insomma, posta in essere dall'attuale amministrazione comunale. A Sommatino dunque, nonostante i protocolli di intesa, solo i cittadini onesti continuano a pagare le tasse per tutti gli altri e facoltativo. Riconoscendo la sua sensibilità e coerenza sui temi della legalità, conclude Falcone rivolgendosi ad Orlando nella qualità di Presidente dell'Anci Sicilia, si chiede in forza all'articolo 2 dello Statuto di proporre al Consiglio direttivo la decadenza del comune di Sommatino. Ciò fintanto eventuali omissioni contabili e amministrative non vengono accertate ed eventualmente riportate nell'alvio della trasparenza. Falcone fa inoltre sapere che continuerà la sua battaglia di equità, seppur ormai non più impegnato nella politica attiva, convinto che non siano accettabili situazioni per le quali leggi dello Stato si applichino per taluni cittadini e non per altri. Ciò sino a quando, conclude dalle mie parti, non sarà ripristinata la legalità.